salve a tutti ragazzi video veramente misterioso guardate qui cosa ha registrato un passeggero durante un volo di linea guardate qui io ho detto ma che diavolo è sembra una croce che scende giù quindi non lo so che cosa dire reale fake non lo so ragazzi però fatto sta che è assurdo quindi non lo so vedete scende al di sotto delle nuvole come ben sapete l'aereo sta di sopra delle nuvole mentre questo oggetto sta scendendo al di sotto io proprio non so cosa dire quindi come sempre chiedo aiuto a tutti voi e mi domando che diavolo è perché sinceramente non ho la palli direi è una cosa assurda strana non lo so può essere fake come non può essere fake su questo non posso dire è reale quindi il dubbio può rimanere sempre quindi non l'ho girato io e automaticamente posso dire potrà essere falso oppure no come sempre lasciate il vostro commento il vostro giudizio al prossimo video e soprattutto al prossimo mistero vedete scende giù ragazzi e scompare ma non lo so cosa diavolo può essere